Restano gravi le condizioni di salute della giovane ragazza indiana residente a Buonabitacolo che la scorsa notte è caduta dal quarto piano dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per lei è stato necessario il trasferimento all'ospedale del mare a Napoli dopo l'intervento chirurgico presso il San Luca in nottata in seguito a importanti fratture in diversi punti del corpo. La giovane donna è caduta dal quarto piano facendo un volo di 15 metri e schiantandosi al suolo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del capitano Annarita D'Ambrosio. Pare che la ragazza già in passato si sia recata per numerose volte al pronto soccorso del presidio pollese mentre all'ospedale di Vallo era stata ricoverata in medicina generale per forti e ricorrenti emicranie. La 17enne resta in prognosi riservata presso l'ospedale napoletano e sotto osservazione del personale sanitario.